Lo so cosa provate, non sapete cosa fare. La vita spesso ci mette di fronte a delle scelte che ci fanno sentire piccoli rispetto alla vastità dell'universo. Che cosa è meglio per me? Benzina, diesel o green? Ci siete cascati! Per fortuna che su avvomobile.it c'è una sezione apposita della ricerca avanzata per scegliere l'alimentazione. E tu? Qual è il carburante giusto per la tua prossima... Prestazioni, accelerazione, sgassare, spunto, grinta! Se in un'auto cerchi questo, allora sei uno da benzina. Se invece sei ossessionato dal risparmio e hai tutta una tabella mentale di quanto risparmi in un anno o con un pieno o a chilometri per poterti vantare con tutti, di sicuro l'auto che fa per te è un'ibrida o un GPL. Se invece sei più in macchina che a casa tua e macini migliaia di chilometri alla settimana, beh, allora sei uno da diesel. Senti qualcosa? Niente. Ti piace questo silenzio? Ti dà... Pace. Allora sei uno da ibride, credimi. Se invece sei un romanticone e quando prendi un'auto vorresti tenerla per sempre e fare milioni di chilometri, sei uno da diesel. Ma manutenzione, come te la cavi? Se sei uno che compra un'auto e vuole starci dietro il meno possibile, allora sei uno da benzina. Ora hai capito qual è l'alimentazione giusta per te? Allora puoi andare su Automobile.it e con la funzione Confronta puoi scegliere l'auto che preferisci. Io mi sa che sono uno da benzina. E sai perché? Per il profumo della benzina. Io lo adoro. Tutti i carburanti dovrebbero sapere di benzina. Il GPL è la benzina. L'elettrico che sa di benzina. Oddio. Ma questa è una start-up pazzesca. La